Aspettiamo tutti gli infermieri presso la nostra sede dell'Ordine delle Professioni Infermeristiche di Bologna in via Zacchini a Visi per la quarta edizione dell'Infermiere di processo che inizierà il giorno 6 marzo. Una figura ormai nota nel territorio bolognese e che sta espandendo le sue vedute anche in tutto il territorio milano e fuori regione, quindi in tutta Italia, nel quale si parlerà proprio di questa figura non più mistica, mettiamola così, una figura portante del triage, un regista del triage che ha portato innovazione soprattutto dal punto di vista di presa in carico, quindi dell'accettazione del paziente stesso, del continuo cambiamento dei bisogni del paziente soprattutto che sta avvenendo in questi ultimi anni nell'ottica in cui la professione infermieristica si sta evolvendo e modificando le sue vedute per rispondere ai continui cambiamenti dei bisogni di salute del cittadino, l'Infermiere di processo è una di quelle figure che sta cercando nel suo percorso di continuare a rispondere a questi bisogni. Ci vediamo quindi il giorno 6 marzo presso l'Ordine delle Professioni Infermeristiche di Bologna nell'Aula Formazione Cleopatra Ferri proprio per affrontare questi argomenti. Le iscrizioni già sono aperte.